Con l'autunno e le prime piogge si pensa a come gestire eventuali emergenze legate ad ingenti precipitazioni che possono provocare alluvioni e dissesto idrogeologico, ma anche come fronteggiare situazioni di potenziale pericolo. Da lunedì è partita l'esercitazione regionale e interregionale per l'attuazione dei piani di colonna mobile organizzata dalla direzione regionale dal Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo scenario emergenziale ipotizzato è quello di un alluvione che coinvolge il territorio teramano, con conseguenze più accentuate nel comune di Pineto. In particolare sono previsti eventi eccezionali come una frana nei pressi della frazione di Mutignano con il danneggiamento di alcuni edifici, il crollo di un edificio di abitazione nella zona artigianale di Borgo Santa Maria e la ricerca di un disperso lungo la foce del fiume Vomano a confine con il comune di Roseto. Nello specifico un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara ha effettuato un sorvolo per definire l'area interessata dall'evento ipotizzato. Successivamente alcuni funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco hanno verificato le condizioni di stabilità di tre edifici danneggiati da una frana. Nel contempo, personale dei pompieri specializzati per operare in ambiente acquatico ha effettuato la ricerca di una persona dispersa nel tratto di foce del fiume Vomano, impiegando anche un gommone. Infine, in un sito realizzato nella zona artigianale di Borgo Santa Maria, il personale Urban Search and Rescue dei Vigili del Fuoco di Abruzzo, Marche ed Umbria ha effettuato la ricerca di una persona coinvolta nel crollo di un fabbricato. Nell'ambito dell'esercitazione è stato istituito un campo base composto di comando avanzato in un'area comunale nei pressi di Pineto. Nel corso della mattinata il prefetto di Teramo Fabrizio Stello, il sindaco di Pineto Robert Verrocchio, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Gennaro Tornatore e comandanti dei Vigili del Fuoco di Teramo e delle altre province abruzzesi hanno incontrato il personale operativo dei pompieri volontari di protezione civile impegnati nell'esercitazione. Questa proseguirà fino al 28 settembre per garantire il coinvolgimento di un ampio contingente di personale operativo.